Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Sapete oggi cosa vi recensisco? Questo nuovo microfono. Non so bene il perché, però molte aziende mi stanno contattando per fare delle recensioni di microfoni e non è ancora finita qui, devo fare ancora un altro video di un altro microfono che sarà veramente una bomba atomica. Comunque, torniamo a questo microfono qui. Sono stato contattato tramite YouTube da Tonor per una recensione sincera su questo microfono che si chiama TC777. Tramite Amazon vi arriverà a casa questa scatola all'interno della quale troverete questo microfono. Già assemblato. Unica precisazione che vi devo fare, state sentendo il microfono della boia in questo momento. Questo è ancora spento. Dicevo, nella confezione troverete lui. Qui, adesso magari vi mando qualche b-roll così lo potete vedere meglio. Già assemblato. Come vedete c'è un mini treppiedi, uno shock mount, la spugnetta e addirittura un pop filter. Tutto preassemblato, non dovete far altro che aprire le tre zampette del treppiedi, attaccare la USB al vostro computer e siete a posto. Anche per questo microfono non servono driver, né per PC né per Mac. Ad esempio, io l'ho attaccato sul mio Mac, Final Cut l'ha trovato immediatamente come microfono esterno e sono stato subito pronto per provarlo. Quindi ho fatto tutte le mie prove con Audacity e Final Cut e vi posso dire che questo microfono funziona assolutamente alla grande per il prezzo che ha. E questa è una cosa molto importante. Stiamo parlando di un microfono che su Amazon costa 34 euro. Quando mi hanno contattato per sapere se ero interessato almeno a fare questa collaborazione con loro, io sono andato su Amazon, ho visto più di 10.000 recensioni, diciamo la maggior parte positive, e mi sono incuriosito. Perché mi sono detto, un microfono 34 euro è veramente molto molto poco. Calcolate che i microfoni professionali costano 2, 3, 400 euro, 34 non è niente. In più vi danno il treppiedi, lo shock mount, il microfono, insomma, mi sono detto proviamolo. Ed effettivamente, dalle prove che ho fatto, è un microfono che assolutamente funziona. Adesso, cosa vado a fare per farvi sentire l'audio di questo microfono? Ho Audacity acceso, metto in REC, quindi in questo momento voi state ancora sentendo questo microfono, ma a brevissimo sentirete quest'altro. E questo avverrà in 3, 2, 1... Ok ragazzi, in questo momento voi state ascoltando il microfono della Tonor, il TC777, e come potete sentire, si sente veramente molto molto bene. Non vi aspettate un microfono con delle frequenze molto basse, che enfatizzi un po' i medi, i bassi e gli alti, insomma, che enfatizzi un po' il tutto. Pensatelo più come a un microfono che fa quello che deve fare, e chiaramente dal basso costo. Il microfono che stavo utilizzando prima è un microfono da 160€ più o meno, tanto per darvi un metro di paragone, e questo, con tutto che non è wireless, con tutto che dovete tenerlo così molto vicino alla bocca per farlo funzionare dal meglio, effettivamente funziona molto molto bene. È un microfono pensato sicuramente per chi gioca, per gli streamer più in generale, per chi vuole fare dei podcast, o perché ha bisogno di un microfono attaccato al PC. Io adesso ho il Mac, quindi ha già dei microfoni integrati, quindi senza microfoni esterni io posso tranquillamente farmi ascoltare, ma se avete per esempio un computer fisso che non è dotato di microfono, magari avete bisogno di una cosa del genere. Come potete sentire, la qualità è assolutamente discreta. Adesso vado a muovere il microfono per vedere se lo shock mount fa il suo, e direi di sì, però mi si è spostato questo, ok. E adesso vado a togliere il microfono da tutto questo ambaradan e lo utilizzo come un gelato. Visto che c'è questa possibilità, allora mi son detto, proviamolo anche così, ed effettivamente, come sentite, funziona e funziona alla grande. Ok, per il prezzo che ha, ovvero, ve lo ripeto, 34€, i materiali sono tutti plastici. Di una plastica abbastanza buona però, vale lo stesso discorso che ho fatto nel precedente video, sono microfoni che una volta appoggiati lì sul tavolo, li rimangono, e quindi secondo me non è che c'è bisogno di chissà quale qualità, basta lasciarlo lì, non starci lì troppo a giocare, e il microfono farà il suo per tantissimo tempo. Come vi dicevo, la qualità è assolutamente decente, anzi, per quanto mi riguarda è anche molto buona rispetto al suo prezzo, e se non volete spendere un grosso budget per il microfono, questo sicuramente può fare al caso vostro, può essere anche una soluzione definitiva, se quello che dovete andare a fare non è una cosa dove serva un audio ottimo, questo secondo me può fare assolutamente per voi. Ok ragazzi, quindi, considerazioni finali su questo microfono, vi ripeto un'altra volta, sì lo so mi sto ripetendo, però costa 34 euro, e io non posso dirvi altro che un microfono che assolutamente funziona, e che assolutamente ha una qualità ottima per il prezzo che ha. Detto questo ragazzi, se il video vi è piaciuto o vi è stato utile, mi raccomando lasciate un like, lasciate anche un commento, e noi ci vediamo al prossimo video, ciao!